Scusate Mario, buonasera Ciao Viter Ecco padre, tu vedi a qualcosa Sì, è forte, no? Run, no sit. What happens if you sit? Run. Yes, no sit. Ok. What happens if you sit? Come on, come on. One, two. Go! Ready? Ok. Thanks. Thanks, I did good. Beautiful. Beautiful. Lovely. Lovely. Good. Very beautiful. ava You are having to worry about it? Let's go. Really? Yes? Yes? I can't. No. No. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.